Il mondo per fare ciò che ci piace, cioè allenare, andiamo in giro per il mondo a fare questo lavoro per prendere del danaro per poter vivere, però non si vive solo di solo pane, credo che tra il riconoscimento dato dalla società e ancora di più l'applauso che il pubblico mi ha tributato quando sono entrato, sono le cose con cui vale la pena e ti ripagati di tantissime cose, quindi li volevo ringraziare con grande sincerità. La seconda cosa, è chiaro che sono molto contento per i due punti, però sono molto contento di più per come ha reagito la mia squadra, io all'intervallo ero molto arrabbiato con loro perché abbiamo fatto una partita, secondo me migliore, buona nei primi 20 minuti rispetto ad Avellino e dovevamo andare a riposo con 8-10 punti di margine di vantaggio e siamo andati a riposo di due. Non riuscivo a trasferirli la grande forza agonistica nel tenere uno contro uno difensivo di giocatori di talento avellinesi che sono di primissima fascia. Ho rimediato con della zona, prima con della matcha, poi con della zona invece normale, per bloccare questo flusso di energia e di talento di Avellino. Il terzo quarto, ecco se non ero riuscito a trasferirlo bene ai primi due, sono riuscito ancora peggio nel terzo quarto perché siamo stati morbidi sugli uno contro uno e su delle situazioni così. Però poi, soprattutto, qui correggetemi, forse fosse sbaglio, credo su meno 8, credo, o 7-8. Abbiamo fatto le nostre miglior difese, siamo andati in attacco sempre da chi volevamo andare. Loro ci hanno sfidato togliendo il lungo, giocando con tutti esterni, facendo il pick and pop e noi non ci siamo adeguati minimamente a loro perché continuiamo a fare così. E devo dire la verità, alla fine vincere una partita quando si è sotto di 8 in questo campo che io conosco molto bene e che è difficilissimo vincere contro una squadra di così grande talento mi ha dato grande fiducia per la mia squadra. Ho detto a loro sin dall'inizio che non volevo sentire una parola sul lungo che ci manca come alibi perché noi dovevamo venire qua e venire qua per poter vincere. E sono stati bravi alla fine andando al posto giusto, al momento giusto, abbiamo dato i palloni e abbiamo attaccato chi volevamo attaccare, soprattutto negli ultimi 6-7 minuti. Quindi questa razionalità che ha avuto la squadra insieme alla determinazione mi ha fatto molto contento. questo complimenti innanzitutto. Grazie. Però credi che si è stati più bravi difensivamente con l'utilizzo della zona che ha anche rotto un po' il ritmo di Avellino oppure alcuni ricambi della Scandone. Più scusa? Alcuni ricambi difensivi che ha fatto la Scandone che ne ha fatto fino all'ultimo di questa all'incamp, è sempre stato coinvolto ed attaccato da lui. Io credo che sia un po' un insieme di come tu hai detto, cioè le due cose. Sicuramente la zona gli ha cambiato molto il flusso proprio di attacco. Le prime 5 sezioni mi sembra, loro non hanno fatto un canestro contro la zona, loro facevano un passaggio e un tiro perché prendono il 70-75% dei tir nei primi 8-9 secondi. Quindi noi volevamo fermare questa cosa. però non siamo stati altrettanto bravi con questa zona nel tenere forte l'uno contro uno e questo mi faceva abbastanza disperare. Però a lungo andare siamo riusciti a togliergli un po' come dire quel comfort zone in cui loro si trovano, cioè in quel modo di giocare in cui loro si trovano bene. E sui cambi difensivi si è stato molto bravi ad attaccarli anche se a un certo punto avevamo cinque falli, loro avevano solo un fallo, quindi abbiamo esistito ad attaccare su questi cambi per poter prendere i falli e poter avere qualche situazione di vantaggio. Altre domande? Sì Pino, innanzitutto complimenti, una volta le tue squadre giocano in modo meraviglioso e senza il lungo titolare che siete venuti, però lei 43-36, quindi il segreto del successo oltre alla tua bravura nel bloccare soprattutto negli ultimi 6-7 minuti la standone sta anche qua. Non credi? Io credo che siano due punti fondamentali. Uno, questo discorso dei rimbalzi. Loro hanno a Locario Grimm che scappa prima contro Piero, ancora prima di andare a prendere il rimbalzo perché è convinto che lo prenderanno loro. Noi siamo andati molto aggressivi contro di lui, non siamo adeguati rincorrendo, siamo andati a rimbalzo d'attacco contro di lui e contro altri due o tre giocatori che preferiscono già guardare il campo aperto. E poi credo che la chiave sia stata un po' la percentuale da tre punti loro di 5-22 che ha un po' tolto il grande loro punto di forza e credo che questo discorso della zona è rimanere abbastanza... Abbiamo fatto una scelta e li buttavamo dentro. Certo abbiamo preso dei canestri ogni tanto molto facili, però volevamo questa cosa, non volevamo fargli prendere dei tiri con una separazione dal difensore e credo che i 5 su 22 ci abbia aiutato molto. Hanno tirato con il 23%, una squadra che tira, non so con quanto, ma sopra il 42-43%. ... ... ... ... Grazie a tutti